Buongiorno a tutti e bentrovati nel mio canale. Vi ho mostrato come realizzo la pasta modellabile, vi lascio il link in descrizione per vedere il video. Oggi invece vedremo alcuni esempi del suo utilizzo. Vi consiglio sempre di usare, quando dovete stirarla, del cartone perché assorbe l'umidità in eccesso della pasta stessa e quindi viene meglio stirarla. Di seguito potete vedere le varie fasi degli esempi. Grazie a tutti. 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 Vi saluto, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. e come dico alla fine, ciao e una buona giornata a tutti.